Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. La Tirreno Adriatico, la Corsa dei Due Mari, quest'anno tornerà alla sua tradizionale collocazione di marzo, dal 10 al 16. È stato ufficializzato il percorso che partirà dall'ido di Camaiore, Lucca, e terminerà come di consueto con la crono finale di San Benedetto del Tronto. Una tappa, quella del 15, sarà anche a Fermo, un grande volano turistico per tutta la città. La Tirreno Adriatico è un strumento di promozione incredibile perché arriva in tutto il mondo con telecronache in diretto di ferita, ha tantissimi spettatori. Il ciclismo è lo sport che fa più promozione perché non si svolge dentro un palazzetto, dentro uno stadio, ma si svolge nella bellezza dei nostri territori. E quindi ogni immagine può essere promozione, oltre che bellezza e il gesto tecnico da appassionato di ciclismo. Sottolineo anche questo, insomma. Il percorso riservato alla tappa fermana sarà quello di Lido di Fermo, che vedrà attraversare tutto il litorale nord, per una parte prettamente pianeggiante e poi la grande salita di Capodarco, a ricordare il Gran Premio del 16 agosto. Noi abbiamo proposto questo circuito finale sulla nostra costa nord, che quindi toccherà tre archi, con l'ingresso dentro i tre archi proprio, San Tommaso, Casa Bianca, Lido di Fermo, per poi girare su una parte di... l'inizio della salita di Capodarco, la storica salita di Capodarco, e poi con Trada Alberelli scendere per San Marco e ripetere il giro passando anche per San Michele. E soprattutto la tappa sarà Lido di Fermo, cioè sarà identificata come Lido di Fermo, non poco anche come il Jova Beach, la tappa non era Fermo, era Lido di Fermo. Poi stiamo lavorando anche, sempre con le RCS, per ripetere nel 2022-2023 la tappa del 2017, quella che sapeva di classiche, quella dei sette muri, qui dentro, fino al Duomo, insomma, fino al Girfalco. Grazie. Grazie. Grazie.